Tornano a protestare le lavoratrici e i lavoratori del servizio di assistenza domiciliare integrata A di estate del comune di Brindisi, che chiedono risposte sulla chiusura del servizio a partire dal primo di gennaio. Il sindacato Cobas ha provato ad incontrare il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, fermato al suo arrivo a Palazzo di Città, che ha annunciato al sindacato e ai lavoratori presenti per la prossima settimana un confronto con i sindacati proprio su questa tematica. Il sindacato Cobas, fortemente preoccupato dei servizi A di SAD, assistenza domiciliare integrata e servizio di assistenza domiciliare, è venuto qui sotto il comune per chiedere un incontro deviso con il sindaco. Il sindaco ci ha risposto che la settimana prossima ci sarà un incontro con tutte le organizzazioni sindacali e noi gli abbiamo risposto che questa problematica ha bisogno di risposte immediate certamente. Poi siamo stati dal direttore generale dell'ASL rispetto alla possibilità che il servizio venisse gestito dall'ASL, ma il direttore dell'ASL Pasqualone ci ha risposto che vuole essere certo della solubilità dell'amministrazione comunale, vuole essere certo che la quota che tocca al comune gli venga data. Quindi ci troviamo in una situazione dove il cane si morde la coda, ma certamente noi vogliamo uscire da questa trappola e la strada che scegliamo è sempre quella della strada della denuncia pubblica perché siamo convinti di quello che abbiamo detto lo scorso anno e che purtroppo viene confermato sotto il nuovo Natale.